l'altro hanno rappresentato il governo della mia città, il sindaco uscente, l'ex presidente dell'amministrazione provinciale Nardone e anche il dottore Antonio Medici che è stato anche gli assessori usciti dell'Aggiunta Pepe. La verità è questa, che il centrodestra abbiamo fatto uno sforzo incredibile per rinnovare le liste, abbiamo soltanto due consiglieri comunali uscenti, ci proponiamo alla città come il vero, come il nuovo. Chi vota noi abbandona in un sol colpo tutto quello che c'è stato di triste, di brutto, anche di inutile nella nostra città e nella nostra provincia. Abbiamo bisogno di cambiare, siamo convinti che votando noi Benevento riuscirà a cambiare. Pepe, naturalmente, invece, vuoi nel senso della continuità e del rinnovamento? Evidentemente ho qualche motivazione di natura un po' diversa, innanzitutto di natura amministrativa. Noi abbiamo in questi anni progettato una città che funziona, una città dove esiste una raccolta differenziata che in questa regione non è una cosa scontata, al 65%, una città più verde. Benevento è una città accogliente, è una città curata, è una città pulita, è una città dove iniziano a funzionare i servizi e il nostro programma evidentemente guarda a una città che deve assumere un ruolo diverso in regione Campania. Per la provincia di Benevento, ma ancora di più per le aree interne della Campania. Questo è un po' il progetto che noi abbiamo in mente di una Benevento dalla grande qualità della vita, come è stata anche in questi anni, ma anche dalla grande proposizione dei beni culturali, un comparto sul quale abbiamo lavorato in maniera assolutamente serrata. Se qualche parola posso spendere, io sono il candidato di una coalizione coerente, che è la coalizione del centrosinistra, che ha vinto nel giugno del 2006, che ha governato questi cinque anni in una condizione sia politica che di crisi enorme per quanto attiene non solo evidentemente i problemi della città di Benevento. Mi ritrovo altri candidati sindaci, anch'io affermo quanto detto dal collega candidato Tibaldi, tutte persone stimabili, ma evidentemente noi siamo una coalizione coerente, come dicevo, che ha governato per cinque anni e in continuità vuole portare avanti questa città nella crescita che abbiamo determinato, loro rappresentano due facce della stessa medaglia, sia Nardone che Tibaldi sono candidati di un centrodestra diviso, spaccato, che ha svilito un po' il ragionamento anche della politica sul piano locale, ma evidentemente questo è quello che è accaduto. E sentiamo subito allora Nardone. Ma innanzitutto la coalizione, il patto per il territorio non è una coalizione di centrodestra, è un laboratorio politico nuovo che prende atto di una straordinaria difficoltà sociale, siamo a rischi di desertificazione sociale, c'è un disagio che non viene nemmeno interpretato, la gente vive in solitudine e senza speranza di futuro. Allora serve uno scatto, parlare dalle parole ai fatti, affrontare concretamente la condizione sociale, provocare delle soluzioni per problemi enormi come quella dei rifiuti, perché pagare 240 euro pro capita per lo spartimento siamo al secondo posto in Italia per delle famiglie monoreddite che hanno disagio e qualche cosa da porre con molta attenzione, con molta umiltà e trovare delle soluzioni più adatte, costruire delle città intelligenti e di connettere al globale, passare dai gestori della spesa pubblica automatica a quella che è la nuova competitività territoriale. Forze diverse la smettono di farsi le lotte in maniera così disancorata dal merito per unirsi e dare una prospettiva soprattutto ai giovani senza futuro delle nostre terre. Grazie Antonio Medici, occorre reagire adesso, insomma un nome che è anche uno slogan, non è solo un nome. Decisamente, voglio ritornare un attimo alla coerenza e alla lealtà, se c'è una persona, un candidato e una lista che interpreta la coerenza e la lealtà con la storia e con gli atti anche amministrativi, questa è ora e sono io candidato sindaco, ho fatto parte della giunta Pepe e non sono assessore uscente, mi sono dimesso nel 2008 quando ho verificato che quella giunta rimaneva coerente e leale ad un metodo di amministrare politico affaristico tradendo il programma, la lealtà si misura rispetto ai programmi e io per questo dico che occorre reagire adesso è la lista degli uomini programmi, la storia di tutti i candidati e anche quella mia di candidato sindaco è la migliore espressione dei contenuti che noi vogliamo esprimere. Bisogna reagire ad un sistema politico che negli ultimi 30-40 anni ha mortificato la comunità di Benevento, dietro grandi proclami ha realizzato solo le politiche clienterali e affaristi che umiliano i giovani, le competenze dei giovani spingendo molti ad abbandonare la città, che utilizzano la trappola della disoccupazione per creare nuove clientele e che adottano un modello di sviluppo che tradisce le vocazioni locale. Ricordo Polo Calzaturiero, i per mercati, ipotesi di piattaforma logistica, solo strumenti per foraggiare clientele e alimentare un consenso clientelare. Occorre reagire adesso a questo sistema e creare una rappresentanza civile in Consiglio Comunale.